E' approdato nella darsena fanese nello scorso fine settimana il motopeschereccio Dragut, l'imbarcazione del peso di oltre 100 tonnellate gestito da una società armatoriale fanese ed amministrata dal comandante Paolo Palazzi. Il Dragut farà base per la sua attività di pesca ad altura nel porto di Fano insieme al Gioacchi, un altro motopesca sempre di proprietà dell'omonima società. Entrambi i motopescherecci riescono a contenere un equipaggio di circa sei persone a bordo, rafforzando di conseguenza la flotta fanese per l'attività di pesca che generalmente viene praticata in alto mare e garantendo un'opportunità di sostegno per tutta la filiera ittica locale, compreso il commercio all'ingrosso e al dettaglio. L'arrivo delle due barche, come ricorda il comandante, sono di nuovo auspicio anche a fronte degli ultimi anni, i quali ha visto ridursi drasticamente il numero di imbarcazioni. Proviamo a rilanciare la pesca, quello che praticamente a Fano era, Fano viveva di pesca, perché se andiamo a vedere nei tempi dietro, la marineria era la base di Fano, penso io. Resta inoltre da verificare la navigabilità e soprattutto l'accesso dei due grandi pescherecci che trovano attualmente difficoltà di accesso tra i due moli. Volevamo fare una segnalazione perché hanno fatto un bel lavoro il dragaggio dentro, si, hanno pulito tutto, però l'imboccatura, come diciamo noi, non è stata pulita e io spero che il sindaco o chi di dovere ci dasse una mano perché noi con queste barche qua rischiamo di, quando c'è la secca, la bassa marea, di toccare. Visto che quella sabbia lì può andare anche come ripacimento per le spiagge, non è una cosa che c'è il fango e la sabbia, se prima possibile viene portata via, almeno dare una pulita nell'imboccatura.